Salve ragazzi, nella guida di oggi vi mostriremo un'applicazione per Windows 8 che vi consente di monitorare l'utilizzo della vostra rete. Quindi per prima cosa ci colleghiamo a questo indirizzo che trovate nell'articolo linkato nella descrizione del video, ovviamente bisogna aprirlo con Internet Explorer per poterlo visualizzare in Windows Store, quindi clicchiamo Visualizzo in Windows Store e da qui quindi clicchiamo su Installa. Ok, l'applicazione è stata installata, clicchiamo quindi sulla notifica per avviarla direttamente. Come potete vedere l'interfaccia è molto semplice e in perfetto stile Windows 8. Sulla sinistra troviamo le varie informazioni fra cui indirizzi IP, livello di connettività, roaming e così via e tramite questo menu a tenere possiamo uscire anche un'altra connessione. Sulla destra invece vi compariranno i grafici, ossia inizialmente quelli per mese dove vi vengono indicati in azzurro i megabyte ricevuti e in arancione quelli inviati. Selezionando quindi uno dei mesi vi verrà aperto il dettaglio in giorni e selezionando un giorno vi verrà aperto il dettaglio in ore. Inoltre cliccando col tasto destro del mouse è possibile aggiornare i dati e invece accedendo all'impostazione e andando nell'angolo in alto a destra o in basso a destra possiamo scegliere inoltre di attivare o disattivare i giornamenti automatici di cambiare i colori. Ad esempio mettiamo questo e questo qui ad esempio e aggiornando ci troveremo i nuovi colori. Un'applicazione davvero semplice e se dovete monitorare il vostro utilizzo della rete per esempio poiché avete un abbonamento a consumo è sicuramente ottimo. E con questa nostra video guida è terminata. Se vi è piaciuto il video cliccate su mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Continuate a seguirci su www.wit-tech.eu e alla prossima! Grazie!